alla missione di reinventare la mobilità urbana permettendo ai cittadini di volare per brevi distanze senza inquinare a bordo di un mini velivolo a quattro eliche una sorta di drone è lo scooter volante ideato da un'azienda svedese che ha scelto la toscana per mettere a punto il proprio mezzo futuristico nella zona di laterina in provincia di arezzo l'impresa scandinava come riportato dalla nazione ha costruito un suo quartier generale che è sede della sezione ricerca e sviluppo e luogo dove i clienti potranno seguire anche una sorta di scuola guida l'impianto aretino a una pista di 800 metri risulta dunque un vero e proprio aeroporto privato la società che ha recuperato una vecchia fabbrica in disuso ed ha allestito uffici showroom e parte della produzione in provincia di arezzo ha già preordini da tutto il mondo almeno 500 attualmente lo scooter volante sarà acquistabile a partire dal 2023 per un prezzo di circa 80 mila euro che comprende ogni dotazione di sicurezza tra cui un paracadute per le emergenze il mezzo attualmente ha un'autonomia di soli 20 minuti ma nel 2024 è prevista la commercializzazione di un nuovo modello che possa garantire fino a mezz'ora di volo intanto le prove nell'impianto di laterina proseguono e vengono condivise sui canali social dell'azienda svedese